E' uno dei talloni d'Achille della città di Patti, la carenza d'acqua e soprattutto le perdite che giorno dopo giorno fanno bella presenza sulle strade. E queste sono quelle che si vedono, altre sono magari nascoste dal terreno o dalla vegetazione, producono comunque lo stesso effetto, riduzione della portata idrica nelle abitazioni, spesso addirittura azzerata, proteste dei cittadini. Si può immaginare cosa accade nel periodo estivo, determinando conseguenze negative anche per il turismo o quando c'è poca acqua nell'impianto. Per non parlare delle situazioni delle frazioni montane che vengono rifornite ancora con autobotti, a questo punto in mancanza di un'adeguata mappatura del sistema acquedottistico comunale, un intervento a cui si dovrebbe dare un seguito per individuare facilmente le falle ed isolarle, evitando di azzerare le locazioni in zone ampie del paese, il vice sindaco di Patti, Ninolena, ha proposto di redigere un progetto conoscenza dell'apparato idrico, un monitoraggio dell'acquedotto ed un'attività di perdita in rete, in modo da ottimizzare il servizio idrico e puntare poi alla ricerca di finanziamenti. Da qui l'affidamento di un incarico per un importo di circa 24.000 euro, perché con una strumentazione adeguata si individuano gli interventi di riparazione da realizzare nel breve termine, ne si faccia anche una valutazione sull'efficienza energetica degli impianti di sollevamento esistenti, al fine di programmare un risparmio energetico. In questo modo si potrà avere un quadro della situazione e dettare le priorità in questo settore. Grazie. 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 Grazie.